C'è un'artista americana straordinaria che si chiama Zoe Kidding, è una violoncellista ed è una indie, quindi un'artista indipendente che non è associata a una grande azienda musicale americana. Allora, come funziona su YouTube? E questo vale anche per i contenuti televisivi e può esservi una parziale risposta alla domanda come facciamo a tutelare il diritto d'autore su internet. E viene associato al contenuto quello che viene chiamato il content ID, quindi una sorta di passaporto digitale del video che viene postato su YouTube. Allora, Zoe Kidding attraverso il conteggio, che è chiaramente un conteggio elettronico che viene svolto a YouTube, a Zoe Kidding vengono riconosciute le royalties. Che cosa ha fatto Zoe Kidding? È una persona molto intelligente e anche politicamente avanzata. Ha detto, guardate che noi con questo modello di vita, di business, scusate, possiamo sostenere la nostra vita perché un artista non deve essere costretto a fare il cameriere la sera e il giorno dopo scrivere la sua musica o il suo pezzo teatrale o il suo pezzo di sketch televisivo. Deve essere messo in condizione di lavorare del proprio lavoro artistico. Zoe Kidding quindi ha pubblicato anno per anno la quantità di royalties che veniva incassata da parte di YouTube. Quindi nel 2015 lei ha dichiarato sul suo sito web accessibile a tutti di aver incassato 76 mila dollari. Ci mettiamo i concerti e altri tipi di attività artistiche e lei aveva uno standard di vita dignitoso. Tutto questo però si è infranto perché YouTube ha deciso di realizzare un canale musicale dedicato di cui ora mi sfugge il nome e ha chiamato la Kidding così come altri artisti e ha detto voi dovete aderire a questo nuovo sistema altrimenti io vi levo il conto in 3D. Attraverso il conto in 3D lei che riusciva a contare o comunque un sistema elettronico contava le sue prestazioni il contratto nuovo che era un contratto peggiorativo non le consentiva di sfruttare questa modalità e quindi lei era fortemente danneggiata. Allora torniamo di nuovo all'attivismo degli artisti. Joe Keating ha scritto una lettera aperta, chiaramente molto spinta da certi organi di stampa sul New Yorker che è la rivista settimanale più prestigioso che viene venduta negli Stati Uniti e ha spiegato questa situazione. Ha detto guardate mi stanno mettendo con la faccia al muro o firmi il contratto o mi devono il content ID. Ovviamente YouTube è tornato indietro. Grazie a tutti.